Alle Isole Olie da riposto con un collegamento diretto e veloce. E' questa la novità annunciata da Visit Sicily Tours che anticipa l'imminente attivazione del collegamento marittimo riposto Isole Olie con il quale sarà possibile raggiungere dal porto dell'Etna l'arcipelago eoliano in poco più di due ore. Il porto di riposto diventerà quindi importante scalo per il turismo isolano. Il servizio sarà gestito mediante l'impiego di un catamarano veloce, capace di raggiungere oltre 38 nodi di velocità di crociera. Un'ulteriore iniziativa destinata a lasciare il segno che rilancia la piattaforma turistica ripostese che il gruppo Lombardo di Cefalu realizza nella cittadina ionica e che arricchisce una straordinaria offerta confermata dai successi ottenuti con la gestione dei servizi dai porti di Cefalu, Capodorlando, Patti e Milazzo. Questo nuovo collegamento, afferma entusiasta il sindaco di riposto Enzo Caragliano, rappresenta di certo un plus valore assicurando un significativo contributo allo sviluppo turistico di quest'area e l'ampliamento dei servizi del porto dell'Etna di riposto che diventerà il nuovo hub della Sicilia orientale da e per le olie. Sulla stessa linea l'assessore al mare Antonio Di Giovanni. Con questo nuovo collegamento riposto diventa un porto turistico di attrazione con servizi qualificati e professionali. Il valore aggiunto fornito da un porto che esprime al meglio il binomio fruibilità turistica-interconnessione territoriale, infatti, determina ripercussioni anche sull'esito dell'esperienza di vacanza sul territorio.